Ci sono oltre 9 milioni di euro in arrivo per l'Abruzzo assegnati dal DPCM del 30 giugno scorso per offrire un sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Tra le attività indicate rientrano quelle del wedding, un settore messo letteralmente in ginocchio dal coronavirus con perdite in tutta Italia dell'80% del fatturato, pari a 29 miliardi di euro nel 2020 e del 100% da gennaio a marzo del 2021. In Abruzzo sono circa 1.500 gli operatori del settore wedding che nonostante la ripartenza degli ultimi mesi stanno ancora pagando a carissimo prezzo quanto accaduto nel pieno dell'emergenza sanitaria. La regione mantenga la promessa e li aiuti. Ad affermarlo il consigliere regionale presidente della Commissione di Vigilanza Pietro Smargiassi il quale oggi a Pescara nel corso di una conferenza stampa ha illustrato ai giornalisti la situazione e le nuove opportunità economiche che si possono aprire per il futuro di queste aziende. Il 30 giugno di quest'anno il governo ha stanziato oltre 9 milioni di euro a sossegno di tutte quelle imprese e aziende che hanno subito particolarmente gli effetti di questa pandemia. Di questi soldi 5 milioni di euro sono immediatamente disponibili a sostegno della ristorazione e del settore del wedding. Un settore che è andato letteralmente in ginocchio. L'85% di queste aziende hanno avuto fatturato pari a zero, sono state ferme per quasi due anni. Ciò che denunciamo è il fatto che in consiglio regionale con una nostra risoluzione avevamo chiesto al governatore di andare al governo e chiedere un unico codice Ateco che desse loro maggiore potere contrattuale in una discussione aperta per la richiesta di aiuti. In realtà questo settore è diviso in mille settori, pensiamo alle bomboniere, fiori, ristorazione, tutto ciò che ruota intorno ad un matrimonio che si è fermato per due anni. Il codice Ateco è importante e fondamentale per farli ripartire e dare loro una voce finalmente all'interno delle istituzioni. Chiediamo inoltre che la Regione Abruzzo attraverso questo governatore richieda immediatamente questi fondi e dia loro un aiuto immediato in attesa che il settore riparta.